A Giulianova le liste di centrodestra guidate da Pietro Tribuiani hanno presentato ricorso rispetto all'esito delle elezioni che hanno visto la vittoria al fotofinish di Ivan Costantini. Tribuiani in una nota parla di palesi incongruenze emerse nei verbali delle diverse sezioni elettorali da cui ne discenderebbe un dato gravemente condizionato dagli errori commessi dai vari presidenti e membri di sezione. Per questo, continua il comunicato, le forze politiche di coalizione, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e DEA hanno ritenuto opportuno presentare ricorso. Tribuiani precisa che dal riscontro eseguito emergerebbero incongruenze che possono ricondursi ad un numero in variazione delle preferenze di ben oltre 59 voti di scarto registrati al termine dello scrutinio tra il sindaco eletto ed il candidato sindaco giunto secondo. Ne è conseguita l'esigenza di richiedere una verifica delle schede per tutte le sezioni evidenziate, per mezzo di un ricorso presentato innanzi al Tarra Abruzzo dell'Aquila, dei legali Anthony Ernest Aliano e Caterina Longo, con il quale la coalizione uscita sconfitta punta all'annullamento degli antimpugnati, verbale di proclamazione e delibera consigliare di ratifica.